Salve Ho iniziato il video come non dovevo iniziarlo Bene io ho detto proviamo Ero andato a leggere come si faceva E dicevano di accendere il terzo e il quarto Io non so se mi ricordo male ma li avevo provati tutti Tutte le tipi di combinazioni E ho acceso il terzo e il quarto Infatti si è accesa e Ho solo un colpo io come faccio Però non ce ne siano più perchè io non ho più colpi E cazzo sono sempre a corto di colpi io però Quindi Oh merda Io non so come fare No Non ho niente nemmeno per craftarmeli Sono proprio nella merda Devo inficcarti la cosa in bocca Li devo inficcare Eccolo Vaffanculo cane Leccami il pesce cane Eh vaffanculo Oh mi è mancato coglione Ciao Salve Zigzag 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 Ok 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 Wow Io ho detto vabbè proviamo dai magari sono sfigato e a me non si cosa E invece subito è partito quindi ho iniziato il video come il don dove non volevo iniziare Però vabbè Ok Ok posso salvare qui Nice Quindi non troverò sorpresine di altri zombie Oh Yes Allora La pianta blu Questa risulta può avere le tossine dal corpo Non so se mi potrà servire nel breve periodo Allora Io mi voglio tenere queste gunpowder qui Perché non si sa mai in caso trovassi qualcosa Questa mi può sempre servire anche questo Non lo so se mi potrebbe servire un'altra manovella Ora ho il rullino Teoricamente questa è una stanza Ok non ho scazzato Dispositivo elettrico ok Come cazzo mi tocca sprecare i gold All right Ok Allora E Il dispositivo elettrico me lo tengo Magari mi può servire Oh no dai ti prego Puttana Merda Niente ho rifinito i colpi Ah ah Eh vabbè Ah 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 No vabbè No Ma che twist Va che twist No No Ah vabbè Nice 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 Ehm Allora Ehm Da che parte era la prima Ah Su Ok era su Quello dove si era incontrato per la prima volta Oh è vero lui era diventato uno zombie Spero sia tutto come prima Tutti morti non ne siano tornati altri Perché non ho colpi Spero di trovarli qua Ok Ok Yeah Oh un'altra cosa da aprire Lo mettiamo ad aprire qua Cassetta di sicurezza Esamina Allora Ta 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 Allora Allora Quello lì Questo qua Allora Ta 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 Quindi Nice Oh Yes Torno da Marvin Scusami Prendo un secondo La gunpowder Così Faccio Le cose che devo fare Aspetta Aspetta Fermo lì Fermo lì Ma vabbè Forse lo posso anche lasciar stare Finchè non rompo i coglioni Allora Un'altra porta Dove mi serviva ciò Non lo so Sai Allora Mi ricordo soltanto Che qua su Mi serviva La levetta Che c'ho Spero non ci siano altri Stronzi Qua Posso fare così? No Inbagliato No E vabbè Ah Ora mi serve quella Ma con il cuore Vaffanculo Sotto Sopra Sotto Sopra Andiamo sotto Dai Qui la sfonda La finestra No Mi serve il cuore Via Ciao Tutte queste chiavi Di merda Non c'è nessun zombo No Ok Due flash Schifo Non fanno Polpi Ok Due slot Disponibili Prendo questa Ok C'è un mister poliziotto Ingranaggio Oh cazzo Eeeh Due, via Ah mister ingranaggio Mi dispiace, ti devo abbandonare lì Vado a rimettere il tastino Va, a depositare le cose Torno su, prendo l'ingranaggio Ammazzo quelli All'interno di qua non c'era niente Vero C'era solo l'uscita E la porta bloccata Ok Allora Deposita Deposita Questo tanto lo devo utilizzare Questo non lo so Ok Eh, ti sposti da lì Marvin Bravo Bravo Marvin Grazie Grazie Ah Buuuh Perlui madonna oh quale mi mancava allora la 203 no 202 eh non l'avevo aperta la 202 ok allora la 203 no ok si l'avevo letto male l'avevo letto inizialmente bene ok nice ne sono altre la 103 che c'è un coltello che schifo non mi fa ok anche qua mi serve vediamo armadietto 3f dcm armadietto l'altro principale questo qua ma questo è col cuore mannaggia oddio questo che cos'era? io qui non so allora devo andare al terzo piano ciò significa che devo salire di qua andare in biblioteca e salire ancora madonna io spero non ci sia quel canone enorme brutto il canone enorme brutto che avevo lasciato madonna è vero infatti l'ho detto ah quanti ce ne sono questo non è brutto via 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 Dov'è la foto? Ah, DCM Che cazzo? Che cazzo sta facendo qualcosa? Oh, salve! Eh, dai! Ma come? Non ce l'avevi equipaggiato? L'avevi coltello equipaggiato? Eh... Non abbiamo un cazzo di munizioni Maffanculo Ah, Marvin Ah, non ce l'avevi un cazzo di munizioni Ah, non ce l'avevi un cazzo di munizioni Ah, non ce l'avevi un cazzo di munizioni Devo andare a prendere l'ingranaggio Fa un culo, Marvin Ehm... Dove andavo per l'ingranaggio? Su a destra Che palle Non avere colpi Mi vado lì con il coltellino C'è, c'è Proprio così Faccio... Uffa Andiamo su nella soffita Puttana della tua sorella Proprio una puttana Dai No, non così Dove vai? Mi lasci passare E' chiusa Era una trappola No, vabbè Non mi posso usare le cose Ok Oh no Oh no Si rompe la scala Oh no Oh no Oh no Però era l'unica Owe Oh 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 Non c'è solo il fuego Vabbè In caso la butto La piantina Questa Oh Oh Venite qua a me Me ne poteva far Staccare Però forse sarebbe stato Un po' troppo facile No Ma che c'è Ma che... Grazie. Cioè no, visto che siamo A fine Cioè abbiamo finito Devo fare così Oh, swaman lusaki Nice E E Questa la rideposito Ok Niente ragazzi Io lo finisco qui Durato 24 minuti Ok, si è risvegliato Ma va bene così perché Aspettate Fantastico Ok Va bene così perché tanto video da mezz'ora Mi ci metto una vita a caricarli Cioè a renderizzarli Quindi magari 5 minuti meno Risparmi un pochettino il computer Va bene Nel prossimo video vediamo un pochettino Quali erano Perché mi ricordo aver visto una chiave Che c'era il trifoglio qua Quindi vediamo un pochettino Se le troviamo Quindi niente E vi ringrazio per la visione E ci vediamo nel prossimo video Di Resident Evil 2 E spero che vi stia piacendo la serie Come sempre Ciao ciao Grazie a tutti